mattina presto nelle marche andare in toscana prendere agnese e poi andare a milano tutto questo con tre ore di sonno in corpo perché io ho degli orari sballati e non di sicuro non mi si aggiustavano un giorno nelle marche con luca quindi ho dovuto per forza non andare poi ieri è successo anche questo luca lo sa che mi si è allegato a casa perché è scoppiato il tubo sotto al lavandino del bagno e quando siamo rientrati agnese da ieri mi si è allegato tutta la casa per fortuna non ha raggiunto gli album delle scoprire madonna tutti hanno una fava cioè tutti gli uomini hanno una fava ovvia cosa vuoi che sia un uccello così lo rifarei non lo rifarei assolutamente ero più giovane cazzo saranno passati 10 anni o 20 anni a 20 anni di madonna ragazzi non capivo una sega zero assoluto ma poi plip 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 ma che cazzo di rumore è vabbè comunque mi dispiace riccardo per questa roba eravamo così una serata particolare è successo ma non l'ho fatto apposta cioè l'ho fatta apposta per sbaglio è successo per ridere principalmente volevo far ridere simone è andata così però mi scuso mi scuso ufficialmente mi scuso ormai da anni però mi scuso ancora per questa butade che sinceramente ho fatto per per farvi ridere ok dopo aver guardato per la 370 no 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 allora aspetta non ci sono altri possiamo farlo tutti insieme se vuoi ok dai sentito il rumore possiamo giocare tutti insieme sono in live non te l'ho detto vai vai dove sei come non so ormai ma parla delle chat perché io guarda sono stato il primo a difenderti sempre cioè tutti dicevano eh ma lo sta facendo seriamente c'era anche il mio gruppo telegram ti ho difeso cioè quindi non so se si stava riferendo se ti stavi riferendo a me guarda ti assicuro che io sia in live cioè c'è il vod sia sul mio gruppo telegram te lo posso non fermare c'è 5.000 persone dentro al gruppo telegram sono veri e propri teorici dei fumetti come Dario Moccia caso piuttosto particolare e caverna di platone perché Dario Moccia caso piuttosto particolare scusa perché che vuol dire caso piuttosto particolare che cazzo ma che vuol dire spiega grazie non ho capito gli italiani sono quelli che sono più migrati in America da sono i più ipdibibibibibibibibibibibibibibibbb no I feel bad when I cry no L'ho mai vista mentre leggevo Berserk Non gli piace No, non dire così Non è che non mi piace Ti sei addormentato tre volte Beh, andiamo a vedere il gioco Ma, sono finito su un articolo Dalla Repubblica Eh, giusto Eh, devi cercare Scrivere Repubblica Twitch L'ho trovato Se vuoi lo zabbaglione? No, ma che si matta E poi non era vero che col Milano è stato lui A farci perdere la partita Sta facendo errori su errori Mamma mia Facciamo entrare i ritardati È il Massello Bocca Uno, porco Dio, sembra Gigi D'Alessio L'altro è un ritardato del cazzo Che balla la canzone dei bambini Baby Shark Madonna Troia Madonna Troia Madonna puttana, Madonna Che squadra del cazzo Voglio vedere ma che fanno sti due Ma voglio vedere che risolvono Comunque fa E poi ti senti anche meglio Cioè, quando hai fatto la spesa Ti senti un po' più pulito Incredibile quando dicevo io queste cose Per culare Nooo Non manipolare la realtà Perché mi incazzo Ma sei scemo Ma che cazzo mi urli Attenzione Attenzione Che cazzo mi urli È proprio questo il punto Te Nel mezzo al supermercato Nel mezzo ai boomerall Le vecchiette che passavano Facevano Io voglio Io lo faccio Quello qui Vado E No Un settino Al volo Dai così Volante Top di gamma Sì Ma scrive solo questo Cioè io veramente Non ho Non ho Non ho parole Separati dalla nascita Ma non è Vabbè Non dico chi è questo Sì Vabbè Invece Hai ragione Guarda Ora che lo osservo bene E il franzo DF Ha senso No è Impazzisco Sì c'era anche il drop Vabbè Comunque Vestavo a D Rust mi sa che lo givappiamo tutti Comunque Cioè Probabilmente lo riporteremo più là Col Marzone E gli altri Quando siamo nel chilling Che non c'è il E mo devo cambiare La misura del tiro Allora Bene Perfetto Vamos Dio della madonna Sgozzata Bruciata Mi dissocio Oddio Dove ne priverei Fossi In te Si sorride Ogni live Ok Stai fermo Porco dio Hai rotti i coglioni Io mi merito Il ban Bannatevi Potete farlo Ma perché Ma perché Non è partito Raga Non è partito Però mi sembra Ma bestemmia Come La fa Comunque raga Lascio Ma cosa lasci Allora io Prima di Dario Dopo Dopo Dario Madonna qui era inquietantissimo Sembrava un Cazzo non posso dire niente Sembrava un Ragazzo Inquietante Al parco Pubblico Va bene Comunque Rocco Braz Nel cespuglio Nel cespuglio La sento sempre Questa qua Questa sigla La so Grazie a tutti